Nel 1492 Cristoforo Colombo scopriva l'America. Nel 2016 un altro italiano la riscoprirà per McDonald's. Siete curiosi di sapere come si chiama? Ciao, sono Cristoforo Colombo. Sì, mi chiamo proprio così, se volete controllare. Ho 20 anni, studio economia a Bergamo, vengo da Lecco, come potete vedere. Cristoforo è un ragazzo responsabile, sensibile. E quando ero piccolo a scuola, soprattutto all'elementari, ero sempre preso in giro per il mio nome. Tutti si giravano per vedere Cristoforo Colombo, in realtà mi chiamo Christopher, per il 1492 maledetto. Sì, dopo un po' di risatine e tutto, adesso sono felice di poter dire che grazie al mio nome io me ne vado in America. Io sto studiando statistica e studiando tutte le variabili possibili e immaginabili, tu hai avuto un c***o morlo. Correto, ciao. Anche a Lecco c'è un po' d'America. Grazie. Ragazzi, ci siamo. Sono pronto e carico. Seguitemi a Viaggio sui social. Ciao.